buongiorno oggi parliamo di occhiali non sono però occhiali normali bensì sono occhiali smart in sostanza sono occhiali con la musica cioè in pratica voi ve li mettete sentite la musica finito il video bene diciamo qualcosa in più su questi occhiali intanto perché li ho comprati come si sentono come funzionano sono buoni conviene acquistarli partiamo con una piccolissima veloce panoramica cosa sta nella scatola io ho comprato il modello frame tenor c'è anche quello che non mi ricordo il nome però un po più tondo per con me più femminile poi c'è il modello per lo sport con anche altre caratteristiche diciamo il tenore è quello un po più femminile sono uguali cambia lo stile quello per lo sport ha qualche caratteristica in più e poi ci sono due vecchi modelli di qualche anno prima chi hanno qualche caratteristica in meno rispetto a questo comunque i dettagli tecnici li trovate sul sito noi andiamo a vedere nel concreto massi occhiali servono a qualche cosa sono buoni oppure no la scatola è molto semplice la si apre in questo modo qui qui dentro c'è un po di plastica ovviamente c'è sempre la plastica e poi un po di carte insomma c'è un libretto di istruzioni completamente inutile ciò che troviamo qui dentro sono gli occhiali gli occhiali li troviamo nella loro custodia una custodia ha una forma un po particolare si apre in questo modo qui in magnetica e qui dentro troviamo un panno in microfibra ovviamente tutto nero per pulire gli occhiali e ci possiamo mettere gli occhiali in questo modo troviamo anche poi questo cavetto da qualche parte nella scatola con dei pin qua voi aprite gli occhiali prendete questi qua li buttate poi vicino loro si attaccano e poi questo qui lo mettete a caricare molto semplice nel giro di un'oretta si ricarica nella durata della batteria è all'incirca 5 ore 5 ore e mezzo dipende dal volume a qui li tenete in sostanza gli occhiali sono molto semplici lenti da sole polarizzate lateralmente hanno queste stecchette che sono praticamente enormi ve li faccio vedere come mi stanno addosso ora tralasciando il fatto che io sono brutto e qualsiasi cosa mi sta male questi qua bene o male mi stanno non male ma malino una cosa un pochettino brutta da vedere sono i pin questi qua laterali però vabbè alla fine uno li indossa non si vedono si può pensare che siano pesanti ma state tranquilli non sono pesanti non li sentite unico problema per chi ha la testa grossa come la mia sono che stringono abbastanza alle tempie all'inizio potrebbe essere leggermente fastidioso poi dopo un po' vi abituate certo se non stringessero sarebbe meglio però vi abituate non vi daranno fastidio qui è dove stanno le cassette non sono a conduzione ossea sono proprio cassette piccoline piccoline qui che vi buttano l'audio direttamente nelle orecchie i comandi che troviamo sono un pulsantino qui sotto un click si accendono due click manda la canzone dopo che clic manda la canzone prima e poi qui lateralmente c'è una piccola parte touch dove possiamo alzare abbassare il volume oppure doppio click parte l'assistente vocale per configurare questi occhiali basta connetterli bluetooth al cellulare oppure c'è anche la loro app dedicata completamente inutile vi dico l'app serve soltanto per connetterli al cellulare cosa che potete fare direttamente dal bluetooth o meglio dall'app potete attivare un paio di funzioni degli occhiali e potete cambiare la lingua della voce degli occhiali infatti quando voi li accendete c'è una vocina che vi dice che gli occhiali si stanno accendendo e quanta batteria rimane a me all'inizio la prima volta che si accesi era in inglese dalla loro app poi ho cambiato la lingua e l'ho messo italiano non che servisse a chissà che cosa è chiaro che questi occhiali hanno anche dei microfoni quindi voi potete tranquillamente fare una telefonata tramite questi occhiali immaginate di stare camminando per strada vi mettete gli occhiali doppio clic chiama pippo e gli occhiali vi chiamano pippo e voi gli parlate così camminando il telefono in tasca tranquillamente certo la gente vi prenderà per pazzi però tra qualche anno quando tutti ce li avranno praticamente sarà una cosa normale le lenti sono intercambiabili ci sono altri due modelli di lenti che potete acquistare e mettere in sostanza basta spingere le lenti se ne escono ma non lo faccio perché se non faccio danno sicuro comunque non è difficile come cosa se avete problemi alla vista quindi avete bisogno di occhiali da vista una cosa che si può fare è portare questi occhiali dal vostro ottico di fiducia e chiedergli se gentilmente vi fa delle lenti su misura per questo si può fare non lo fa boss direttamente però si può fare e c'è qualcuno che l'ha fatto quindi potreste trasformarli tranquillamente in occhiali da vista immaginate di trasformarli in occhiali da vista andare a fare un esame universitario che cavolo ne so io con la vocina del vostro amico chiamata qui dentro per mi suggerisce tutte le risposte ovviamente sto scherzando studiate che meglio arriviamo al succo però come si sentono si sentono bene le persone intorno a noi sentono o no il fatto è che questi sono occhiali sono dispositivi fatti per il sole sono occhiali da sole non sono dispositivi fatti per ascoltare musica io li considererei più dispositivi fatti per sentire musica sentire e ascoltare diverso chiedo che se voi volete ascoltare musica vi comprate un bel paio di cuffie come si deve o un bel paio di auricolari e invece vi basta sentire musica questi qua vi posso dire si sentono bene non sono a livello di cuffie professionali o auricolari buoni però non si sentono male per l'uso che ne farete vi renderete conto se li provate che si sentono molto molto bene camminando per strada voi con questi avete la musica e in più avete anche le orecchie libere quindi sentite tutti i rumori intorno a voi se arriva una macchina che sta per investirvi la sentite ora va bene non siamo troppo tragici dai guardate a destra e sinistra quando attraversate la strada quindi sì secondo me si sentono molto bene per l'uso che ovviamente ne viene fatto quindi camminare per strada camminare in spiaggia quando c'è il sole ovviamente se poi ci mettete le lenti da vista potete utilizzarli anche di sera senza sembrare persone strane perché chiaro andare in giro di sera con gli occhiali da sole non è tanto normale le persone intorno a voi sentono quello che voi sentite io li ho utilizzati già più di una volta con il mio gruppo di amici quando esco in giro per il paese e non si sono accorti di niente è chiaro che non avevo il volume sparato al massimo ce l'avevo all'incirca a metà io sentivo bene o male bene e loro non sentivano niente se ne sono accorti soltanto quando ci siamo andati a sedere su una panchina quindi avevo uno qui e uno qui e dopo un po' hanno subito e dopo un po' hanno detto ma cos'è sta musica e avevo il volume all'incirca a metà ed è lì che mi hanno sgamato hanno scoperto che i miei occhiali sono così loro si pensavano fossero normalissimi occhiali chiaro che se alzate il volume già a tre quarti o al massimo chi vi sta qui vi sente chi magari sta già a un metro o due un po' più difficile diciamo che se state in casa in una stanza che è silenzioso anche col volume a metà a distanza si sente infatti io appena li ho provati la prima volta appena sono arrivati in stanza ho detto ma come si sente un sacco si sente poi in strada effettivamente vi rendete conto che con tutti i rumori ambientali le piacchiere le cose non si sentono quindi si sono abbastanza privati volume a metà voi sentite e gli altri non sentono tranne se vi si vengono ovviamente ad attaccare a fianco in quel caso abbassate un po' il volume il volume tanto lo potete abbassare o dall'asticella direttamente o dal telefono quanto costano questi occhiali costano all'incirca un 250 euro anche se vi dirò io li ho trovati a tipo 170 euro su amazon quindi non prendeteli a 250 euro ve lo sconsiglio assolutamente aspettate che scendono e prendeteli sui 150 a 200 al massimo secondo me sono un buon prezzo non sono un oggetto utile però sono un oggetto che male non fa in fondo in giro uscita perché non sentirvi anche un po' di musica mentre vi fate una tranquilla passeggiata senza doversare con gli auricolari quindi ne consiglio un acquisto? si ne consiglio un acquisto almeno del modello che ho provato io che è uguale al modello quello che ho detto con le lenti un po' più tonde però è diverso rispetto alla versione precedente che ha qualche caratteristica in me insomma era la prima versione vi lascio il link comunque a tutte le versioni qui sotto in descrizione per esempio la prima versione ha una batteria che dura di circa 3 ore 5 ore di autonomia magari vi sembrano poche però pensateci quanto tempo passate in giro con gli occhiali non è che dovete tenerli accesi tutto il tempo a fine 5 ore ci sta certo più autonomia non farmi schifo a nessuno però secondo me è più che sufficiente poi se li volete utilizzare per lo sport c'è il modello dedicato che ha anche una resistenza in più all'acqua o comunque anche questi hanno un minimo di resistenza all'acqua certo se gli buttate l'acqua addosso li immerguete vi dicono ciao ciao però un po' di goccia un po' di sudore non creano problemi io li uso tranquillamente per allenarmi questi non sono il modello per allenarsi però io li uso anche per allenarmi e non mi hanno dato mai problemi io poi sudo tanto quindi praticamente li immergo nell'acqua problemi non me ne hanno mai dati certo è che se li dovete utilizzare solo per lo sport io vi consiglio rivolgetevi al modello sport se invece volete fare entrambe le cose e uscire sport questo modello va più che bene detto questo io vi invito a mettere un bel pollice in su se vi sono stato utile iscrivetevi al canale attivando la campanella lasciate un commento qui sotto per qualsiasi cosa e ci vediamo ad un altro video ciao ciao